Benvenuti in Tag Heuer. Tag Heuer è un'azienda di orologi di lusso sinonimo di savoir-faire all'avanguardia e qualità senza compromessi. Fondata nel 1860 da Edward Heuer, la società si è sempre basata su due principi fondamentali, conduzione familiare e innovazione tecnica. A soli 20 anni, Edward Heuer aprì il suo laboratorio di orologeria a Saint-Ignès, dove iniziò a produrre orologi da tasca, principalmente in argento. Nel 1880, con la crescente popolarità delle competizioni sportive, Edward Heuer capì che i cronografi da tasca rappresentavano uno strumento essenziale per questi eventi. Nel 1887, Heuer depositò un brevetto per il perfezionamento del pignone oscillante, una straordinaria innovazione che semplificò l'assemblaggio e la manutenzione del cronografo. Tra i modelli più significativi del marchio troviamo il Carrera. Questo cronografo nato nel 1963 ha colpito i collezionisti e appassionati di tutto il mondo, sia per il design elegante e minimalista che per la sua precisione e funzionalità. Il Carrera è ispirato alla leggendaria gara automobilistica Carrera Panamericana. La precisione della sua funzione di cronografo ha reso questo orologio un punto di riferimento per gli sportivi, che col tempo lo hanno visto migliorare e innovare. Un altro modello molto popolare è sicuramente il Monaco. Questo segnatempo presentato nel 1969 ha fatto la storia dell'orologeria. Il Monaco è considerato il primo orologio al mondo con un movimento cronografico automatico. Per realizzarlo Heuer collaborò con Breitling e Hamilton, riuscendo a battere sul tempo Zenit e Seiko, che stavano lavorando ad un progetto simile. L'estetica del Monaco è diventata celebre in tutto il mondo grazie alla sua cassa quadrata, tanto che anche Steve McQueen lo portò al polso facendolo diventare il simbolo delle gare automobilistiche e dei motori. Il design unico degli orologi Tag Heuer presta sempre molta attenzione ai minimi dettagli, arricchendo l'esperienza complessiva di chi lo indossa. Tag Heuer vanta una storia prestigiosa nella realizzazione di orologi sportivi moderni, pensati per il momento presente e fatti per durare. Grazie alla sua continua ricerca dell'eccellenza, Tag Heuer è diventata un punto di riferimento per gli amanti degli orologi di qualità, che apprezzano l'avanguardia, la precisione e lo stile audace che hanno segnato la storia mondiale dell'industria dell'orologeria.